in futuro. L'osservatorio sui processi formativi e l'analisi territoriale dell'Università di Salerno oggi presenta il report sulle attività svolte dal 2011 al 2017. Sì, è l'occasione per fare il punto anche più complessivo su quelle iniziative che l'Università di Salerno ha messo in campo a beneficio della scuola e dei giovani. In questo senso noi abbiamo fatto una scelta di campo ben precisa, molto apprezzata dalla direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Luisa Francesi, che anche lei ha voluto partecipare a questa iniziativa, e di essere a supporto rispetto alle scuole del territorio, tutte le iniziative, perché io sono assolutamente convinto che innanzitutto il progresso del Paese passa attraverso la rivalutazione delle scuole e dei docenti, ma anche e soprattutto del legame molto forte che si deve creare appunto tra il mondo della scuola e quello dell'Università. In questo senso io penso che la nostra Università ha innanzitutto doveri nei confronti di questo straordinario mondo che è il mondo della scuola. E quindi oggi è anche l'occasione per presentare iniziative che noi abbiamo in campo alla presenza autorevole, quella del sottosegretario del MIUR, Vito Di Filippo, un uomo del territorio che ben conosce la nostra Università e che con le diverse cariche istituzionali che ha avuto nel tempo ha sempre in qualche modo sostenuto le iniziative del nostro Ateneo. Quindi un'occasione buona anche in qualche modo per evidenziare quelle che appunto sono state più specificamente le attività svolte dall'osservatorio in sei anni di attività e quindi in qualche modo anche in maniera induttiva per capire quelle che sono le attività che saranno svolte in un prossimo futuro.